Uomini e donne Messaggio di Giulia Cavaglia ad un passo dalla scelta Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne sapranno, domani pomeriggio andranno finalmente in onda le scelte dei vari tronisti. Molto probabilmente, la prima a compiere il passo decisivo sarà Giulia Cavaglia. Sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, infatti, la ragazza, così come tutti gli altri tronisti, ha voluto mandare un messaggio a tutti i fan per spiegare il suo stato danimo attuale. La Cavaglia si è mostrata in modo decisamente emozionato ed ha fatto quasi fatica a parlare. Ecco cosa ha rivelato. Il video messaggio di Giulia Cavaglia prima della scelta Uomini e Donne. Ormai, è quasi fatta. A partire da domani, fino a venerdì, andranno in onda le scelte dei tre tronisti ancora in gara. Per questa occasione, la redazione di Uomini e Donne ha deciso di realizzare levento in diretta, in modo da evitare spiacevoli spoiler e anche al fine di abbreviare il più possibile i tempo. Giulia sarà, quasi sicuramente, la prima a compiere questo passo così importante. . Nel corso di un video messaggio, presente sulle IG Stories di Raffaella Mennoia, lex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ha detto di essere davvero molto emozionata. La ragazza non vede lora di portare a compimento il suo sogno. Laugurio di Giulia, chi tra Manuel e Giulio la spunterà?. Naturalmente, Giulia Cavaglia non ha nascosto un bel po' di preoccupazione per levento. Ad ogni modo, non può far altro che augurarsi che tutto vada per il verso giusto e che tutto quello che ha in mente possa, finalmente, realizzarsi e dare luogo ad una splendida favola. . Attualmente la ragazza è contesa tra due corteggiatori, Manuel e Giulio. Con entrambi si è instaurato un rapporto molto intenso. Con il primo, un po' più mentale, con il secondo, decisamente più fisico. . I due protagonisti sono ragazzi completamente opposti tra loro. Verso chi propenderà la cavaglia? Lo scopriremo molto presto. .